Buonasera a tutti i telespettatori di Teleromagna da Andrea Raggini. La situazione meteo in questo inizio settimana ha visto cieli grigi a causa di nubi basse e nebbie che questa mattina dopo le prime schiarite sulle colline romagnole hanno offerto questo spettacolo. Come potete vedere la nebbia illuminata dal sole sulle prime colline romagnole. La situazione meteo anche nella giornata di martedì non vedrà cambiamenti. Questo a causa della situazione immutata cioè un anticiclone sulle aree orientali dell'Europa mentre una depressione interesserà soprattutto la Francia e quindi la nostra regione si troverà nel mezzo. Sull'Emilia ci sarà molta nuvolosità con piogge su Piacentino e Parmense mentre tra Emilia orientale e la Romagna dopo un inizio con nubi basse e qualche nebbia la situazione vedrà un miglioramento con l'apertura di schiarite soprattutto sull'Appennino romagnolo. Per quanto riguarda le temperature i valori saranno ancora miti per la stagione almeno di 4-5 gradi sopra la media del periodo. I valori minimi saranno generalmente compresi tra 9 e 14 gradi mentre i valori massimi saranno compresi tra 9 e 14 gradi ma punte fino a 18-19 gradi sulle colline romagnole. Questo a causa di richiamo caldo che appunto questo territorio risentirà da sud. Per quanto riguarda la ventilazione sarà debole, moderata sul crinale, il mare sarà per lo più mosso. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini.